Salve a tutti i friends dal vostro supercorris, eccoci qua ragazzi oggi facciamo questa chiacchierata con il nostro volante qua la nostra postazione Diciamo una chiacchierata sim racing, penso che sarà un nuovo format, probabilmente lo metterò in una cartella ovvero chiacchiere da sim racer Un format dove parliamo dell'ambito sim racing in generale Come al solito cercando di dire le cose come stanno senza dover per forza leccare niente a nessuno e soprattutto dicendo quello che è il pensiero del sottoscritto Che poi penso su questo canale sia la cosa più importante Parliamo di Gran Turismo, molta gente si indigna quando io parlo di Gran Turismo perché dice Eh però tu sei troppo critico, non è giusto Gran Turismo qua e là finché ti ha fatto come No ragazzi io sono stato il più critico su Gran Turismo 7 da quando è uscito Io ho fatto una recensione dove ho criticato il criticabile Sono stato il più aspro, quello che ha dato i voti più bassi Quello che è stato più cattivo e adesso la gente che non ha visto chiaramente quella recensione Dice che io perché sto giù, ragazzi è semplicissimo Cioè io ad oggi solo con Gran Turismo posso portare avanti il palinsesto racing game tranquillamente sui miei canali Sto ai massimi livelli perché io se non mi voglio allenare come avete visto come sto facendo ora Corro in Serie A e sono tra i migliori, se mi voglio allenare un pizzico di più posso correre in Serie A più S E essere tra i migliori, quindi alla fine ragazzi è semplicissimo il discorso Il discorso è che Gran Turismo a me è un gioco che mi dà la visibilità perché lo seguono in tanti sui miei canali E le prestazioni, io su Gran Turismo ad oggi se voglio sono uno dei migliori Sugli altri giochi non è detto perché adesso si arriva il pc ragazzi non è detto che sugli altri giochi sono fenomenale Farsi anche che metti giochi molto simulativi e io faccio schifo Quindi ad oggi io potrei tranquillamente star zitto Leccare il sedere a questo gioco, continuare a portarlo a prescindere anche dalle arrabbiature I cazzi che ho quando vedete la live E stare tranquillissimo, non è la mia filosofia Io mi faccio portavoce di tante persone come me insoddisfatte di questo gioco E adesso ne parliamo Come al solito voglio invitarvi a iscrivervi se volete ai miei canali Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza su Percorris & Friends Chi mi vuole aiutare a raccogliere fondi da nonare in beneficenza Trova il link di PayPal in descrizione C'è l'aiuto e sostegno al canale, abbonamenti e donazioni Potete aiutare il canale a crescere e a sostenersi meglio L'obiettivo è prendere un pc Allora ragazzi, parliamoci chiaramente Quando io gioco a un sim racing Quando io gioco a un gioco di auto Ho comprato migliaia di euro di attrezzato Volante, corone, pedaliere e tutti i vari cazzi Qual è l'obiettivo mio? L'obiettivo mio è semplicemente Uno Avere un'immersività in quello che sto facendo Essere immerso in quello che faccio Sentirmi parte di quello che sto facendo Sentirmi Un pilota virtuale Ma più vicino possibile al pilota reale Ad oggi Gran Turismo mi dà questo? No! Perché Gran Turismo 7 che cos'è sostanzialmente? L'ho sempre detto Un riciclone di un gioco già molto vecchio Che è Gran Turismo Sport Che non aveva innovato nulla sostanzialmente Quindi se voi andate a prendere Gran Turismo 6 Che c'ha più di 10 anni Ha la stessa giocabilità Un gioco uscito per le console di più di 10 anni fa Due generazioni fa Qual è il problema? Il gioco è stato riciclato in toto da Gran Turismo Sport E buttato là Sapendo che si sarebbe venduto A livello di fisica Di guida Ragazzi È un gioco che non ha nulla di realistico È un gioco che Se lo gioca qualcuno Che ama i simulativi Lo trova frustrante Qual è il problema? La macchina non si tiene La macchina è difficile da guidare Perché? Perché è troppo semplice Uno dice Com'è possibile Correre un controsenso No Perché tu alle volte Non capisci quello che stai facendo in pista Dato che la macchina Non ti dà feedback realistici La macchina Corri Quello che succede Succede Mettiamoci anche che Non è realistica la fisica dei contatti Ti tocca uno E ti butta 100 metri di distanza Non è così Nella realtà La fisica dei contatti È molto diversa Non è assolutamente realistica La fisica Di quello che c'è fuori dalla pista Cioè tu Piste come Monza Che se voi l'avete corso Su giochi come assetto corso Assetto corso competizional Avete visto che Monza C'ha i cordoli ampi proprio Per metterci le ruote sopra Su Gran Turismo Tu non puoi Su Gran Turismo Se tocchi il cordolo Un centimetro di più T'ammazzi T'ammazzi Se tocchi l'erba Quando nella realtà O in un gioco simulativo La macchina si scompone un attimo Ma ti permette di continuare Su Gran Turismo T'ammazzi Ti giri T'ammazzi subito Cioè è normale per voi C'è una fisica Che non c'è assolutamente senso Tu stai facendo una grande gara Un centimetro di Che t'allarghi un po' Sul cordolo Quindi su una parte Della pista percorribile T'ammazzi Ti giri e t'ammazzi È normale no? Quindi gare rovinate Per questi discorsi Già ripeto A livello proprio di guida Non è la massima esperienza Anzi Basta provare ragazzi Il problema di Gran Turismo Qual è? Negli anni 90 Era il simulativo più realistico Negli anni 2000 Più o meno Il problema di Gran Turismo È quando è uscito assetto corso Per console A quel punto Gran Turismo È diventato un gioco Per bambini ragazzi Voi basta che provate Assetto corso il primo Che su console playstation E xbox Non è aggiornato da una vita E guardate Cos'è la vera simulatività Gran Turismo Dall'uscita di assetto corso È diventato un giocarello E dall'uscita di assetto corso Di competizione È diventato ancora più Un giocarello Gran Turismo Un gioco che si rivolge Ai bambini Ai ragazzini A quelli che giocano Col pad Alla gente che non si vuole Impegnare seriamente Sul racing game Né come giocabilità Né come attrezzatura Perché se sei un sim racer E ci tieni Comunque Anche una base Anche un volante scarso Ce l'hai Anche una postazione Scarsa ce l'hai Non devi per forza Comprare roba di 2000 euro Anche perché vi ripeto Mi fa Sono ridicoli Quelli che corrono Su Gran Turismo Con i volanti Da 2000 euro Gran Turismo Un gioco che col pad È più veloce col volante Quindi Certamente Se io mi reputo Un appassionato di sim racing Uno che ci tiene A correre in pista E non c'è il volante Non è vero Non sono appassionato Perché anche un T150 Un T128 Che costa Meno di 200 euro Te lo compri Giochi E guidi finalmente Non stai a farlo Scemi con il pad Perché col pad Ragazzi non percepisci nulla Alla guida Parliamoci chiaramente Il pad è Un'altra cosa Correre con un pad Correre con un volante È un'altra cosa Pure se i tempi sono buoni Non stai correndo Non ti senti minimamente Convoti in quello che fai Perciò Un gioco che si gioca Meglio col pad Che col volante Proprio come forza motorsport Già ti fa capire Che come simulazione Non esiste È tutto Trend che simulativo È frustrante Che tu fai le gare Ti si gira la macchina Ti prende di mano Ti tocca qualcuno E ti fa volare Fuori dalla pista Cioè non ha senso Non sono fisiche Adeguate Nel 2024 Ragazzi Ha rotti i coglioni Ci gioco da anni Ci gioco dal 2021 20 su Gran Turismo Sport Sono anni Adesso è inaccettabile Ragazzi mi ha stufato Io sono stato uno dei primi A dire Gran Turismo è bello Online mi diverto Adesso mi sono stufato Perché trovo Inaccettabile Per il tempo moderno Che viviamo Un gioco del genere Quindi partiamo dal presupposto Fisica di guida Inaccettabile Fisica di quello che accade Dinamica proprio Durante Nadar Inaccettabile Per quello che accade In pista Ragazzi Una serata a Gran Turismo Cos'è? Una serata online a Gran Turismo Cos'è? È francamente La galleria degli orrori Non è Non è giocare È wrestling Il wrestling WWE È uguale Perché ad oggi A prescindere dalla categoria Dove sei Ad oggi è impossibile Fare una serata Su Gran Turismo Pulita Decente Una serata Dove tu Ti puoi tranquillamente divertire E non farti nemici Casini No Su Gran Turismo Automaticamente Soprattutto se sei uno Che si fa rispettare Se non sei un coglionetto Che si fa Sbeffeggiare da tutti Su Gran Turismo Purtroppo La realtà Sapete qual è? Che non esiste Che tu possa fare A seconda della categoria A prescindere Quindi se sei in APS In AS In B Che tu possa fare Una serata Senza avere Dieci nemici in più A fine serata Senza avere Dieci incidenti Senza essere sbattuto fuori Senza trovare cretini in pista Questa è la realtà Noi analizziamo La serata di ieri Ho sclerato Ho imprecato Mi sono ingazzato Sono distrutto le cuffie Perché? La serata di ieri È stata semplicissima Prima gara Tamponato Quarantasette volte Non una Quarantasette Gente che arriva in curva Non frena Gente che arriva alla prima curva Del primo giro Non frena Ne sbatte fuori dieci Gente che fa soli danni Gente che ti arriva dietro Mica dice Io questo adesso studio Un sorpasso Studio come fare A fare un attacco decente Come facciamo noi No lo devo Boom Ti sbatte Ti butta fuori E tu rimani così E tu rimani così Ce l'abbiamo visto ragazzi Nella prima gara Ieri Siamo arrivati Mi sembra Noni Potevamo fare il podio Siamo arrivati Noni Dietro gente Il triplo Più lenta di noi Perché? Praticamente Ci hanno sbattuto 15 volte Ci hanno sbattuto 15 volte Gente che non frena in curva Per non subire il sorpasso E taglia la pista E non viene penalizzata Cioè questo è il livello Ragazzi Questo è il livello Senza né E senza ma Altre gare Gara successiva Io stavo tranquillamente In zona punti Gara successiva Stavo quarto Ultimo giro Sorpasso Faccio sorpassi Tutti puliti Senza toccare minimamente L'avversario Senza dargli un danno A recargli un danno Sorpassi puliti Che permettono a lui Di continuare a correre A me Di prendere la posizione Arrivo praticamente Stavo in zona punti Questa non è quella quarta Questa è la gara Dove praticamente arriva Un cretino Con la Porsche Lo sorpasso pulito E questo qua Pensa bene Nella stessa curva Di sbattermi due volte Di farmi andare Completamente fuori pista Anche là Io rientro in pista E lo sperono Perché mi faccio rispettare Non passo da coglione Gara successiva Vogliamo parlarne Penalità assurde Tu fai la stessa curva In mille giri E non c'è la penalità Infatti alla fine Non ci penalizzava più Non si sa il motivo A un certo punto Penalità 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 Il gioco ti penalizza Di continuo E non ci sono problemi Tu puoi fare la curva Come ti pare Anche in maniera più pulita Ti penalizza D'altronde Supero Quello che c'avevo davanti Ero quarto Una battaglia Con la BMW Bellissima Gli sono rimasto vicino Senza tamponarlo mai Lo supero All'ultimo giro Supero un altro Che è uscito di pista Faccio la chicane Penalità Faccio la chicane Come diecimila volte Penalità Penalità Che mi va a intaccare Due posizioni Da quarto a sesto Quindi è normale Per voi C'è un gioco Che non ha senso Che dà penalità Assolutamente a caso A caso Gara successiva Sono entrati Gli imbecilli Allora Punto primo Se arriva la prima curva Sto cretino Che la super Se ne esce di pista Esce di pista All'esterno della prima curva Rientri in pista Tutti quanti lo superano Mi allargo io Per sorpassarlo Questo mi inizia a sbattere In pieno Cioè Quello è un rettilineo La curva Dalla prima Alla seconda chicane Di Monza È una curva Però è come un rettilineo Vai a tavoletta Sto cretino Io cerco di tenermi In traiettoria Perché la traiettoria interna È quella molto più veloce Quindi io stavo esterno Però cercavo di stare vicino a lui Questo che ha iniziato a fare Si allargava E mi dava le botte Finché non mi ha fatto I sci di pista Cioè è normale questo Capito Il primo giro Becchi il cretino Che ti deve rovinare la gara Ma il meglio Deve ancora venire Aspettete Gara successiva Dominio assoluto Dal primo A mi sembra L'ottavo giro Primi Primi Nonostante davamo la scia A tutti A quello dietro Che ha fatto Otto giri di scia E non ci ha riuscito a sorpassare Una difesa eccezionale Una pulizia Incredibile Il gioco pensa bene Darmi Prima un secondo Di penalità E dopo un altro secondo Assolutamente gratuito E mi fa arrivare Da primo a terzo Mi rovina completamente La gara E là me ne sono uscito Completamente di testa Ho spaccato le cuffie Mi sono ingazzato Come un animale È normale Capito Che io prendo penalità Assolutamente Inaccettabili Incomprensibili E il gioco mi rovina Una gara vinta Per far vincere Gente molto più lenta di me Non è per vincere la vittoria E per regalare Una bella soddisfazione A tutte quelle persone Che la sera Stanno là Davanti a Youtube A seguire me Capito Perché a me mi interessa Che quella era una vittoria Che volevo portare a casa Ma questo non è tutto Nonostante questo schifo Quindi quando non ti sbattono I coglioni Ci sono le penalità Poi arriva Il top del top Le ultime gare Le ultime gare Entrano I soliti quattro cretini Che vanno in gara Solo per fare danni Kimi Velocini Con un altro nome finto Questo qua Kimi Velocini Sta da anni Su Gran Turismo A fare danni Solo a rovinare Le gare degli altri E nessuno lo caccia Là vi faccio capire io Interessa a qualcuno Quello che accade Nelle lobby di Gran Turismo Online No Perché se no Non ci vorrebbe niente Mettere qualcuno deputato A capire Chi sono quelli scorretti Cronici E li butti fuori No Kimi Velocini E lei ieri ha fatto Un altro account Ma era evidente Che era lui Dalla livrea Da come ha scritto il nome Dalla bandiera Da come mette L'aiuto della sterzata Rientra Kimi Velocini Altra gentaglia Come lui E' finita Praticamente Si è portata Un altro amico spagnolo Scandaloso Come lui Stronzo Come lui Il far west Ragazzi Il far west Cioè quello È giocare online Il far west Poi lo diremo Anche sabato Nel video Dei bocca aperte Il far west Ragazzi Adesso vi faccio passare Immagini Ma Prima gara Noi stiamo correndo Stiamo correndo Stiamo recuperando Praticamente Io Non mi ricordo Chi è che mi ha preso Comunque Stavamo agli ultimi giri Kimi Velocini Come al solito Incidenti qua Incidenti là Ci ha preso pure a noi Io praticamente Stavo tranquillamente Arrivando quarto Me lo trovo Nelle due di lesmo Lui con quattro secondi Di penalità Non l'avevo ancora riconosciuto Mi sbatte Mi caccia fuori Io rientro in pista Arriva sto cretino Perché poi Scusate ragazzi Non è razzismo Parliamoci chiaramente Gli inglesi Sono la nazionalità Più bastarda Che ci sta Su Gran Turismo Cioè gli inglesi Non se ne salva uno Sono talmente stronzi Bastardi radicati Su Gran Turismo Che è impossibile Giocare pulito Quando ci sono gli inglesi In lobby Non che non ci sono gli italiani Abbiamo visto Pure un italiano No cretin Di tutte le nazionalità Ci sono i cretini Ma gli inglesi Superano in logica Arriva questo fenomeno Da dietro Mi sorpasso E gli lascio lo spazio Perché ho subito Sorpassi Zitto E senza fare Scorrettezza Gli altri no Nessuno vuole subire Un sorpasso Praticamente Si prende Cocchimi velocini Io arrivo Dislancio Per riprendermi La posizione Questo in pieno rettilineo Sapete che cosa c'ha Colpo di genio Va molto più piano di me Io sono molto più veloce Tu mi devi cedere la posizione Perché quando lui Ha sorpassato me Io non mi sono buttato In mezzo alla pista Per non farlo passare Mi sono cansato E l'ho fatto passare Si è messo Dall'esterno All'interno E si è fatto tamponare Sto caprone inglese Imbecille di Steve Si è fatto tamponare Si è fatto tamponare Contento E convinto Di aver preso la posizione Alla parabolica L'ho sbattuto fuori Mi sono preso la quarta posizione E manco mi ha penalizzato il gioco Un'infamata Di livello altissimo Ma il meglio Doveva venire ancora Nella gara successiva Perché poi l'avete visto Nella gara successiva Siamo partiti dietro Come al solito Ci siamo riusciti a salvare Da Kimi Velocini Alla prima curva Di tanto Ci ha sfiorato Ci avrebbe buttato fuori Ci avrebbe rovinato la gara Sto cretino Stava primo Per farvi capire Quanto può essere Bocca aperta la gente Sto cretino inglese Stava primo Cosa ha pensato bene di fare Di rallentare tutti Di iniziare ad andare piano Sbattere chiunque in pista Per aspettare a me Cioè vedete La psicologia demente Io quante volte Vi ho detto Abbiamo rincontrato gente in pista Che ci ha fatto un dispetto Ho detto io Ma manco Ma anche ti risbatto Ti super E ti umili in pista Sto cretino che fa Ci aspetta Pensando di aver beccato Uno stupido Ci voleva far passare E tamponare Io l'ho preso L'ho tamponato Io l'ho buttato fuori Sono andato in box Ho fatto il pit stop Lui non ha potuto fare il pit Siamo ripartiti Kimi Velocini Sbatteva tutti Il far west Ci stava un altro italiano Che sbatteva tutti Il far west Sto cretino avanti Sbatteva tutti Il far west Ragazzi Il far west Cioè Ogni blocco di vetture Che stavano correndo Cioè aveva qualcuno Che stava sbattendo qualcun altro Cioè capite Dov'è il problema Il problema è che Non siamo solo noi E chi sbatte a noi Il problema è che È ovunque Cioè la merda Lo schifo Cioè non ci sono lobby pulite Ma l'abbiamo visto Anche in A più S Pure là ci sta una serie Di imbecilli Poderosi Ed è quello Che mi ha demotivato A me Quando vi dissi Io voglio arrivare In categoria A più S Per fare le gare pulite Quando sono andati In A più S In Austria Se vi ricordate Abbiamo beccato Gli stessi imbecilli Ragazzi Abbiamo beccato Lo stesso schifo Non esiste ad oggi Una categoria di Gran Turismo Dove non ci sono Gli imbecilli E là loro ho detto È inutile Continuare a puntare Tutto su un gioco Perché ho detto No punto su Gran Turismo Vaffanculo Semina più S Corro solo qua È inutile puntare Tutto su un gioco Che Non ti permette Di fare nulla di serio Perché ovunque corri Ci sono gli imbecilli Ieri la gara è finita Abbiamo vinto L'ultima gara Umiliando tutti Sì i bocca aperti Che andavano più veloci di noi Poi Infiltrati Allora Prima sera Gente di A più S A Brands Edge Con gente di serie B Allora Qual è la piccola differenza Ragazzi Chi corre in A più S Si allena Ma si allena di continuo Non a caso Se vedete gli youtuber Che corrono in A più S Corrono 10 ore al giorno Quello è il livello D'allenamento Gente che corre di continuo Se corri in A S Comunque ti devi allenare Devi essere un minimo bravo Perché sennò È difficile correrci Quindi praticamente Metteva quelli Diciamo professionisti Che lo fanno di lavoro Con quelli che corrono Per divertimento Chi corre in serie B Ragazzi avete visto Non si allena Entra la sera Fa un paio di giri E corre Quindi Matchmaking di merda E non ve l'ho detto Ieri uguale Cioè c'è gente Che sta in A S Con il profilo finto Gira in gara 47 48 48 48 48 8 Corrono Quelli di serie A Che girano in 50 È normale no? È normale trovare gente Che gira 2 secondi più velocità Nella lobby Cioè non ci girava Coca Lopez Tra cui che ci ha sbattuti E quello vi dico Cioè anche il campione del mondo È scorretto in pista Pensate un po' Voi gli altri Se non lo sono Un gioco dove il campione del mondo A noi ci ha sbattuto fuori In maniera vergognosa Pensate un po' Se gli altri non lo sono Rendiamoci un po' conto Di quello che è la situazione Quindi praticamente tu ti trovi nelle lobby Con gli infiltrati Delle altre categorie Che corrono nella categoria Più bassa rispetto alla loro Perché sennò ci prendono le mazzate Ti trovi Gentaglia Che corre solo per fare danno All'Achimi Velocini Che vuole solo sbattere fuori gli altri Ti trovi Imbecilli Che appena Stanno subendo un sorpasso Si ributtano in pista E te ne fanno di tutti colori Ti trovi gente che Non solo Non si fa sorpassare Ne fa di tutte Di quante Io non capisco ragazzi Come si fa A imbastire Programmi di live Su un gioco del genere Ma anche se io giocassi Senza fare le live Come fai A imbastire Serate E divertimento Su un gioco del genere Ragazzi non c'ha senso Capite che non c'ha senso Ad oggi Giocare a Gran Turismo 7 Significa prenderti Delle grandi rabbie Perché nessuno controlla Lo schifo è ovunque A prescindere dalla categoria E c'è una serie di Escoion Quell'altro Sono sempre gli stessi Ragazzi Tu giochi Trovi sempre Gli stessi Cinque Cretini Scorretti Che stanno là Solo a fare i danni Allora vi dico io Ecco perché C'è la mia critica Aspra nei confronti Questo gioco Ragazzi Perché non hanno migliorato La giocabilità Questo è un gioco Uscito da due anni E che riprende un gioco Del 2017 Di sette anni fa Perché non hanno migliorato Minimamente il modello di guida Anzi lo peggiorano Le macchine Sono sempre più inguidabili Cioè Se prendiamo Assetto Corsa Competizione Vi faccio un esempio Banalissimo Dal primo gioco Uscito nel 2020 Quindi quattro anni fa NX100 anni fa Per PS4 Che già era un capolavoro A livello di guidabilità E voi prendete Le varie patch Che hanno fatto Compresa l'ultima Ragazzi Il gioco è migliorato In maniera devastante Assetto Corsa Competizione È diventato un gioco Con i vari aggiornamenti In solo quattro anni Mostruoso Cioè Se io riprendo in mano Adesso la versione PS4 Del 2020 Che tra cui Non è manco quella del 2020 È comunque stata aggiornata Pure su PS4 Fin quando l'hanno aggiornato Cioè Un gioco che è cambiato Completamente Dal 2020 a oggi Assetto Corsa Competizione Ragazzi A livello di giocabilità È diventato un gioco Mostruoso Incredibile Mostruoso La giocabilità è diventata Nettamente superiore Gran Turismo È sempre uguale Anzi Peggiora Peggiora Gara settimanale Dieci giri Mi che ti mette le gomme mediche Almeno c'è un po' più di guidabile Le gomme dure Che rendono la macchina Ingestibile Cioè Capito dove sta Già il modello di guida Fa schifo Anche le scelte dei programmatori Fanno schifo Quando tu invece Vedi giochi Che in questi anni Sono evoluti da pazzi Ripeto ACC È un gioco Che si è evoluto da pazzi Eh perché non giochi a ACC Perché purtroppo Ragazzi Tante sere Vai su ACC Ci stanno 20 persone A girare Ecco qual è il problema Perché poi Chi ha console Deve essere Vincolato a giocare A Gran Turismo Perché su Gran Turismo La gente la trovi sempre Su ACC purtroppo C'è poca gente che gira E quindi tu magari Accendi una live E dopo un po' Non sai che gare fare Perché non ci stanno le persone Questo è il problema di ACC Quindi vi dico io Se andiamo a valutare Il modello di guida Su assetto corsa È stato migliorato Da pazzi In soli 4 anni Con diverse patch Che sono andato a migliorare Solo il modello di guida Oltre a tutto il resto Gran Turismo è sempre quello Anzi peggior Anno per anno Peggior Peggior B.O.P. Mettene tre macchine di merda E buttate là Che non servono un cazzo La Renault 4 Che fa schifo Pure se la incontrassi per strada Manco mi piacerebbe guidarlo Perché è un Ucess Era un Ucess negli anni 70 Questo è il gioco Capito? Quindi Questa è una chiacchiera Da SimRacer Che vi dico Io sono una persona Che mi voglio confrontare Su giochi Veramente ostici Giochi veramente Che mettono alla prova La mia bravura di pilota Non giochi che puoi giocare Un bambinetto di 10 anni Col pad E andare più veloce di me Non esiste Io voglio provare giochi dove Se tu non hai un volante Dove se tu Non sei veramente un po' talentuoso Non puoi giocare Infatti ripeto sempre Guardate i fenomeni di Gran Turismo Quelli che fanno 20 ore di live Dopo li vedi E giocare agli altri giochi Che fanno schifo Su quelli simulativi Perché I giochi veramente tosti Là nonostante i 10 anni volanti Da 2000 euro E giocano la mattina alla sera Là non riescono a giocarli Poi Quindi Andiamo a valutare Altre cose Io mi voglio confrontare Con giochi seri Con giochi che mi danno Emozione E quando guido Mi fanno sentire molto meglio E non un giocarello Che non ti fa percepire Ad oggi nulla Un gioco dove online Ti devi fare solo i nemici Perché poi Sbatti Gli insulti Le cose Ti corre dietro alle lobby Questo è il discorso Ti devi fare solo i nemici Tu Giocando a Gran Turismo Devi finirla live Incazzata Arrabbiato Che la roba distrutta Ti sei fatto pure i nemici E non ti sei divertito un cazzo Questo è il livello Ieri è finita bene Con una grande vittoria Ma Ragazzi Dopo due ore abbondanti E mezzo di frustrazione Quindi vi dico io Ad oggi per me è inaccettabile Ad oggi Spero di poter presto Avere la possibilità Di giocare altro In modo da potermi cimentare Su veri giochi simulati E vedere davvero Quanto sono bravo a guidare Perché L'onore di guidare Forte a Gran Turismo Per me non è un onore A Gran Turismo Li posso prendere Chiunque di voi Vi metterla una settimana E vi faccio arrivare In categoria AS Senza nessun talento Quindi Questa è una chiacchiera E va a valutare L'impossibilità Ad oggi Di giocare A un gioco Come Gran Turismo 7 Pulito Di fare una serata Online pulita Divertente Senza avere Mille cazze E mille problemi Fatemi sapere Che ne pensate Ci vediamo I prossimi video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.